Non ci furono negligenze di sorta anche a fronte del fatto che le istituzioni pubbliche avevano fatto trapelare notizie rassicuranti. Lo hanno messo nero su bianco i giudici della Corte d'Appello dell'Aquila che hanno confermato la sentenza di primo grado. Lo Stato pagherà 600.000 euro ai due eredi di una vittima del terremoto. In particolare si tratta di una persona deceduta nel crollo del palazzo in via Campo di Fossa 6B in cui persero la vita 24 persone durante il devastante terremoto del 6 aprile del 2009. Il risarcimento segue la citazione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri condannata a pagare 385.000 euro per uno dei crolli più gravi nel centro storico del capoluogo di Regione. Al figlio che era con la mamma al momento del crollo alle 3.32 di quel maledetto 6 aprile di 15 anni fa, rimasto gravemente ferito, era stato riconosciuto un danno permanente. L'avvocato Giuseppe Fisauli, che rappresenta le parti civili, evidenzia che ci si trova di fronte a un altro verdetto che esclude le responsabilità delle vittime, in questo caso un decesso, un ferimento grave, a differenza del pronunciamento a firma del giudice Monica Croci che il 9 ottobre 2022 in un processo civile riguardante sempre lo stesso palazzo aveva sancito che le vittime avessero una parte della colpa perché sarebbero dovute uscire dal palazzo dopo le prime scosse. In particolare ci si riferisce alla commissione I Grandi Rischi che il 31 marzo 2009 in pieno sciame sismico si riunì all'Aquila. Al termine l'allora vicepresidente dell'organismo Bernardo de Bernardinis, a nome dei sei suoi colleghi tutti scienziati dei terremoti, invitò gli aquilani a convivere con serenità con la difficile situazione che si era creata. Cinque giorni dopo la tragica scossa che fece 309 morti e oltre 1500 feriti. I sette scienziati in primo grado furono condannati a sei anni di carcere per aver rassicurato senza basi certe gli aquilani che poi non avrebbero assunto risolite precauzioni come quella di uscire di casa dopo forti scosse. In secondo grado gli scienziati furono assolti, tranne de Bernardinis, al quale sono stati inflitti due anni confermati dalla Cassazione. La sentenza di primo grado, ora confermata, è stata firmata dal giudice Baldovino De Sensi. Lo Stato, tramite l'avvocatura, dovrebbe presentare ricorso in Cassazione.